E anche il consumatore italiano, noi abbiamo ricerche che ci dimostrano come il consumatore italiano che è stato sempre considerato che sui temi della sostenibilità o del green era un consumatore un po' più pigro rispetto ad altri consumatori, noi oggi abbiamo ricerche di mercato che ci dicono che il consumatore italiano si sta spostando in maniera molto rapido e molto veloce su una sensibilità molto maggiore verso questi temi. Cito solo un esempio, noi due anni fa abbiamo cominciato con Knorr, facciamo un progetto che si chiama Knorr Landfall, che cosa facciamo? Finanziamo progetti di agricoltura sostenibile, ebbene questi progetti che quindi sono concreti, che sono entrati dentro la dinamica del brand Knorr hanno fatto sì che questo brand abbia cominciato a crescere. Quindi laddove il brand interprete in maniera vera il tema della sostenibilità, il consumatore te lo riconosce, il consumatore è un consumatore molto più attento e che quindi ti ripaga acquistando o preferendo i tuoi prodotti verso prodotti che forse non hanno la sostenibilità così centrale come quel marchio. Quindi l'Italia che era un po' più pigra forse nel raccogliere questo messaggio, oggi non è più pigra ma è anzi attiva. Lo è l'Italia perché oggi siamo a Bologna, perché è l'Italia che si sta proponendo come capitale mondiale, anzi Bologna, come capitale mondiale dell'ambiente in una settimana particolare, perché siamo nella settimana del G7. Esatto, infatti la giornata di oggi è particolarmente importante perché, ripeto, grazie al Ministro l'essere presenti qua non è essere presenti in una qualsiasi giornata che fa sempre piacere venire da Bologna, ma fa ancora più piacere perché è una settimana clou, cioè si parla di ambiente, si parla del G7 ambiente a Bologna. Quindi l'Italia dopo l'esperienza di Expo credo segna, scrive un'altra pagina di un paese che secondo me può dire la sua sul temi dell'ambiente, sul temi dell'alimentazione, sul temi della sostenibilità. Io credo che noi come paese, quindi sono ancora più contento di essere qui perché come azienda, sì multinazionale ma presente in Italia, cioè noi siamo in Italia da 150 anni, come Unilever per sé, abbiamo festeggiato l'anno scorso il cinquantesimo anno di Unilever, quindi non siamo qui, quindi le morde fuggi, è un'azienda che ha sicuramente la sua natura di multinazionale, però ha una sua radice forte sul territorio nazionale. Noi abbiamo fabbriche che stanno in Italia da 40 anni, 50 anni, in Italia comunque siamo 3.500 persone, quindi siamo una grossa realtà, quindi fa ancora più piacere essere qui presenti, che sì, una dimensione multinazionale ma che si traduce anche in un'azienda che sul territorio italiano vuole dire la sua, vuole dare il suo contributo sia alle istituzioni e sia al mondo imprenditoriale. Credo che il passaggio importante sia verso il Ministero ma anche verso i giovani imprenditori, dove ci vedremo adesso nei prossimi mesi, perché il manifesto che noi questa mattina abbiamo presentato è solo l'inizio, non vuole essere la fine, vuole essere l'inizio di un percorso che ci vedrà impegnato con Confindustria Giovani nel portare sempre più aziende a accettare il manifesto e quindi a lavorare sui temi della sostenibilità. Quindi è l'inizio di un percorso in cui l'Italia può giocare una sua partita importante, Unilever Italia può giocare una partita importante, forte dell'esperienza internazionale ma tradotta sul territorio nazionale. Quindi credo che la sfida che abbiamo davanti per i prossimi mesi è una sfida interessantissima, una sfida che vogliamo vincere lavorando con le istituzioni e lavorando con i giovani imprenditori. Per chiudere, questo messaggio che ci sembra molto importante, un'azienda multinazionale globale con mezzo secolo di storia e cinque stabilimenti che creano lavoro, che creano lavoro su quello che prima definito come asset principale, i due asset principali, il brand, il marchio e le persone. Quindi queste persone che sono, direbbero gli anglosassoni empowered, che si sentono sostenibilità essi stessi. Quali sono le politiche in questa direzione e come queste si possono trasmettere tramite il manifesto ai giovani imprenditori e alle future generazioni? Infatti io credo che questa, ti ringrazio per la domanda, perché questo chiarisce anche un tema. Io credo che l'essere multinazionale non significa rinnegare la dimensione locale. Chiaramente noi siamo forti, siamo presenti in 190 paesi, abbiamo un certo fatturato di un certo rilievo. Quindi questo è chiaro che ci dà una scala, ma ci dà anche una capacità di knowledge che possiamo importare dalle altre realtà. La nostra capacità e la mia responsabilità è quella però di tradurre questi temi, queste capacità, queste conoscenze in temi che sono fondamentali per il paese in cui stai. Ripeto, come business siamo qua da 150 anni, come l'elevo da 50 anni, spero, io non ci sarò, ma spero che questa azienda sarà qui per altri 150 anni. Questo è il contributo che noi possiamo dare. E come dicevi giustamente tu, noi siamo 3.500 persone in Italia, abbiamo investito nei nostri stabilimenti ordini di grandezza di 50-60 milioni, quindi investiamo in Italia, investiamo in asset, ma investiamo in persone. E qui, lo voglio dire apertamente, spesso in Italia noi riusciamo ad assumere ragazzi dall'università che non hanno niente da invidiare agli altri paesi e tra l'altro alcuni di questi ragazzi in questo momento non sono in Italia, sono chi a Londra, chi a Rotterdam, perché c'è una cross fertilization a livello mondiale, poi questi ragazzi ritorneranno ancora arricchiti, saremo in grado poi di mandare altri ragazzi fuori. Quindi la dimensione persona è una dimensione importante, non solo perché dobbiamo essere in grado di assumere, ma anche proprio di far crescere questi ragazzi italiani che non hanno niente da invidiare da invidiare agli altri, hanno secondo me tutte le caratteristiche per vincere, lo stanno dimostrando, perché alcuni ragazzi che sono a Londra, che sono a Rotterdam, stanno andando benissimo e ci viene riconosciuto una qualità che è tipica dell'essere italiano. Dobbiamo essere bravi a essere italiani, ma non vivere l'italianità come un elemento di chiusura, ma come un elemento di vantaggio per andare fuori. Se viviamo l'italianità come un elemento di chiusura, perdiamo. Se invece viviamo l'italianità come un elemento che arricchisce la nostra capacità di fare business, allora andiamo fuori e possiamo vincere. Questa è la sfida anche mia personale di Unilever Italia. Allora, grazie come italiano in una multinazionale ma in Italia per portarci verso questo fine settimana, domenica e lunedì, con un messaggio di una grande corporate che dice non è vero che riducendo le emissioni si vada male, ma anzi stiamo crescendo molto di più, stiamo creando occupazione e stiamo creando motivazione nei nostri dipendenti che divengono loro stessi gli ambassador, gli evangelisti di questa vita migliore, grazie al vostro anche contributo. Assolutamente. Grazie di essere qui. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao, grazie.